le cose capitano per caso oppure esiste un disegno segreto per il quale tutto accade secondo un ordine prestabilito e se davvero è così chi o cosa ha deciso al posto nostro e per quale motivo queste domande che da sempre hanno messo in crisi l'essere umano trovano oggi una risposta nella fisica quantistica la fisica delle possibilità secondo la nuova fisica siamo noi stessi i creatori della realtà istante dopo istante scegliamo quale tra le infinite possibili realtà prenderà forma attorno a noi costringendola a emergere dal campo di energia che pervade l'intero universo e ne collega ogni singola particella ma se davvero siamo noi creatori della realtà perché non creiamo solo cose belle perché non siamo tutti ricchi e felici perché continuano a capitarci cose che non vogliamo perché l'incidente perché la perdita perché la malattia questo libro non promette di cambiare il futuro del lettore né di dargli la ricchezza o la salute perpetua la cosa che promette però è di offrire una risposta alla domanda che ogni persona prima o poi nella vita è costretta a doversi fare perché mi capita editoriale programma presenta perché mi capita alla ricerca del senso nascosto della vita un libro di di francesco albanese da ottobre nelle librerie di francesco albanese di francesco albanese Grazie saluto There etcetera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.